Io non sono nervoso, è che stai sempre attaccato a qualcosa. Se scoppia una guerra termolucleare neanche te ne accorgi. Esiste una vita, un mondo fuori da quel telefono. Lo so, me l'hai già detto mille volte. Che c'è di secondo? Hamburger. Vegano, spero. Dato che toccherà a noi sistemare i danni che voi avete fatto al pianeta. Io non capisco che gusto ci sia a guardare ore e ore balletti idioti fatti da gente idiota Ma forse almeno Roberto Bolle. Non puoi capire, sei un boomer. Un bouquet? Un boomer? Vecchio. Non fai guardare, sono cose mie. E tu non puoi stare a tavola col telefono. Lo vedi che ogni volta ti devi staccare da quel coso dai ne escandescenze? È una dipendenza. In Giappone esistono gli hikikomori. Sì, lo so, me l'hai già detto mille volte. Ora, com'è possibile che qualsiasi cosa io ti dica te l'ho già detto mille volte? Lo sai che ho deciso di farmi in Monaco, trasferirmi in Tibet e lasciarti in uno fenotrofio senza telefono? Uh-huh, me l'hai già detto mille volte. Ah, t'ho beccata! Era un modo per farti... Ehi, signorina! Allora, chiariamoci subito qua, eh! Ok? 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 Ah oddio